Per me se si può, buongiorno, oh buongiorno signora D'Agisa, esatto, si vai alla parrucchiera a farmi le paville per la cerimonia, sono pensate di passare a lasciarvi l'ultima valutazione della povera Novi, non le rispettiamo signora D'Agisa, Steve, tu stai a fare la pratica per l'ultrasport, ce ne vuoi solo due minuti, se aspettate ve li dico Aspetta, aspetta, fate pure con comodo Signora Lanci, ma se te, perché volete aspettare in piedi? Per carità, e non mi faccio aspettare E perché? E non, ma che mi sa cianci Ma che cosa vedi che ci sono le pavole, ma che dico la situazione è ancora E capire di che intuizione, avete chiamato alle 6 e mezzo alla casa di un casciamortale, ci volevo un genio Non capire di che è successo Siete proprio un ingrato, siete Ma, povera me, che giornata c'è, direi ancora la parrucchiera, direi ancora la parrucchiera, direi a fare le massacce, la siretta, la lampada e la cerimonia Ma, come ne vai, se non faccio tardi, arrivederci Arrivederci Ma, attenta, attenta signora Ma cosa è successo? Attenda la soglia A che è lo gradino della soglia? Sì, le trotte che le patate Ha la soglia che sta davanti allo scalino Adesso fa che, adesso, dopo tutte le cose che tenete da fare, pure lo scarpare Sia, ma, ai, e pure questo ci ha mandato Arrivederci Prego, prego Arrivederci Di qua sto lavoro Arrivederci Arrivederci Arrivederci, sono la cerimonia Grazie Ciao Nel tuo tempo vi hai in esame una cosa più allegra? Io veramente, io ci avevo pensato, però, non sapevo che eravate d'accordo Sotto accordo, sì, sono d'accordo Ligga la campana a morte e mettici una musica più allegra Eh, va bene, forse, appena tengono un po' di tempo, programmi la musica Ma la musica da far vivere pure le musiche Oh, tu, questi si vanno in ballevento Tu, la capace, ti devi gioco No, ma così c'è ruina Certo, papà, non vuoi di fiducia? Sente nessun messaggio, felice Va bene, allora, sentite che ideola, tenetevi forte, eh Si ricorda alla gentile clientela che i giorni fissati per le morti in offerta speciale Sono il martedì e il giovedì Funerali in 56 rate a prezzi bloccati Voi pensate a morire, al resto pensiamo noi Affrettatevi No, dico, puoi aprirle? La combinazione, dove sta? Ma qual combinazione? Questa non è una caccia forte, questa è una caccia da morte Puoi aprirle, salse, lo cupirchio Oh, capito Che faccio ti prende pensiero, allora Oh, oh, ah, si muove Dai, dai Ah, però pensa Ya, ma Guardate voi Porca miseria Porca miseria Ma non è la vita Sì, bene Sì, bene Sì, bene Sì, bene Lo cavaliere E, bene Ma non è vista Ma come è tutto succede? Eh, come è tutto succede? Sì, allora, che succede? Tu che non so, non so, non so, non so E senza mai niente Oh, mi facete capire qualcosa? Allora, qua ti sta poco da capire Qua dentro L'u-morte, non ci sta, è già, eccolo qua, e perché l'u-morte, non ci sta, fermate, perché non ci sta, aspetta, aspetta un attimo, ma infatti dove si mette, tutti questi posti, gli amanti, gli amma che se ci vede ne passenne pure in guai, oh senti io, mi ammazzisca, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.